Un addio al veleno, Luca Toni saluta Verona tra commozione e rabbia, nel mirino in particolare il direttore sportivo Filippo Fusco, Reo secondo Toni, di averlo confinato a un ruolo meramente formale. Mi ha detto che decide tutto lui, dopo 22 anni di calcio credo avessi diritto di dare qualche consiglio, mi è stato negato e dunque ho scelto di andarmene nonostante altri due anni di contratto. Questo è il Toni Pensiero stamattina nella conferenza stampa convocata in un hotel in pieno centro cittadino. La pistola fumante è ancora lì ed è il caso Cassano. Toni lo voleva, Fusco no, ma gli attriti risalgono a diversi mesi fa con Toni che aveva posizioni divergenti sul mercato, gestione della squadra e l'allenatore Pecchia. Toni che poi non ha risparmiato una stoccata a Fusco. Siamo stati promossi in A con 15 milioni di Montengaggi, il vero miracolo l'ha fatto la SPAL con 3 milioni e mezzo. A di là di come la si pensi, di Toni resteranno le sue prudezze in campo. 48 gol è il titolo di capo cannoniere nel 2014-15 e la commozione a TV7 di quello che è stato uno dei migliori centravanti europei del ventunesimo secolo è l'unica fotografia che può cancellare il fuoco fatto delle polemiche e resistere all'ingiallimento del tempo. Quattro anni non si dimenticano, sono stati a parte la retrocessione, quattro anni splendidi. Questi quattro anni che veramente mi hanno ringiovanito, sia da parte mia che anche dalla mia famiglia perché comunque a Verona hanno vissuto veramente molto bene.